Carlo Mandelli adesso ho voglia di fare musica. Parola di Manuel Agnelli. E per tornare in scena, dopo la pausa dalle note suonate Causa X Factor, la voce degli After Hours ha scelto di festeggiare il trentennale di carriera con un evento assieme alla sua band. Questa sera al Mediolanum Forum il protagonista assoluto è il rock italiano, alla cui storia gli After Hours hanno dato un contributo enorme lungo gli ultimi tre decenni, tra chitarre elettriche e testi d'autore. Per festeggiare al meglio, sul palco saliranno anche molti degli ex che hanno fatto parte della band, da Dario Ciffo ad Andrea Vitti passando per Giorgio Prette, Lorenzo Olgiati, Cesare Malfatti e diversi altri. Insomma, tutti i musicisti che hanno contribuito a scrivere la storia del più importante gruppo alternative rock nostrano. Ad aprire il concerto ci saranno due band che Agnelli ha seguito nei panni di giudice nel talent di Casa Sky, ovvero i Rose S.M.E.S.T.N. Questa sera al Mediolanum Forum di Assago, in via di Vittorio 6, alle 21. Biglietti esauriti.Riproduzione riservata marchio registrato.